Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruni e in questo momento mi trovo nel Brunei, un posto molto interessante, sono andato come il mio solito a frugare e a vedere i miei andri nascosti, i posti più caratteristici, tutto molto bello. Una domanda che viene spontanea a chi è intenzionato a venire in queste parti è dove andare a mangiare? Ok, ci sono molti posti caratteristici, anche molti posti terra a terra, però il posto migliore dove assaporare la cucina tipica, tradizionale del Brunei è sicuramente l'hotel Redison. Ho visitato diversi posti, però questo qui è il posto dove le condizioni igieniche sono migliori, il cibo è cucinato meglio, ci sono delle specialità tipiche che altrimenti in altri posti non si riescono a trovare, si tratta sempre di cucina etnica, locale che stranamente di solito mi viene a mente per esempio il Redison di San Pietroburgo o di altre località, trovi cucina europea, non trovi la cucina etnica, qui invece vi è la cucina del posto, tradizionale, molto buona, vi mostro un po' cosa sto mangiando, giusto così. Ecco questo qua è un piatto di pasta con il contorno con delle verdurine, qui vi è del pollo, questo qua è un piattino così, un antipastino, pasta fredda mista, con questi qui sembrerebbero dei funghetti locali non li ho ancora provati, poi vabbè c'è un'insalatina, è la classica anatara all'arancio, ecco questo qui è l'anatar all'arancio, dopo chiaramente c'è molta, ecco vi faccio vedere un po' il locale, come il posto, molto bello, fresco, ecco il posto è stranamente vuoto, qui sono due che lavorano qua, non c'è nessuno, ecco qui un po', da questo punto di vista un po' una desolazione al posto vuoto, però si mangia molto bene, vi do il buon appetito da solo e ci sentiamo alla prossima, ciao!